L'obiettivo nostro era vincere, purtroppo abbiamo preso troppi gol stupidi che si potranno mi dà benissimo e sono veramente dispiaciuto perché ci credevamo fino alla fine, abbiamo fatto il possibile fino adesso e questi sono due punti assolutamente persi, diciamo che anche lui non ha fatto il suo quindi io spero solo che dando e facendo sempre il massimo possa aiutare la squadra, se questo comporta anche a vincere allora sono molto contento, però diciamo che sinceramente sono dispiaciuto per il posto che abbiamo perché abbiamo iniziato male, sempre le stesse cose ma sinceramente pesano perché secondo me oggi, dopo oggi, cioè noi provavamo solo a fare il nostro, non credevamo di vincere, noi facciamo il nostro e scendiamo sempre in campo per vincere, però sapevamo che una squadra che non ha mai perso ne avrebbe dovuto perdere 3 su 4 e su 16 partite, complimenti a loro, non hanno ancora mai perso, questo è sintomo di grande squadra, noi come ho detto prima, comunque ogni partita entriamo in campo per vincere, quello ci ha anche riportato a salire un po' e adesso questo è un brutto stop secondo me che non ci voleva per niente, però adesso dobbiamo continuare a lavorare, ci sarà la sosta e dobbiamo lavorare, lavorare per vincere le prossime partite e arrivare il più in alto possibile.